Una vita avvolta nel mistero, quella di Gioachino Rossini, il tedeschino, come lo avevano soprannominato da giovane, innamorato com'era, della musica di Mozart e Haydn. Un compositore riscoperto solo di recente dalla critica operistica italiana ed europea, che ha composto ben 39 opere in soli 37 anni di vita artistica. Dopo il Guglielmo Telli, infatti, completato nel 1829, Rossini smette di scrivere per il pubblico a soli 37 anni nel pieno del fervore creativo ed artistico. La cenerentola, che insieme a Il barbiere di Siviglia, Il turco in Italia e L'italiano in Algeri è un'opera buffa del grande musicista di Pesaro, andrà in scena al Teatro Pettozzelli di Bari. A riflettere sull'enorme talento di Rossini, il professore merito Giovanni Carlo Ballola, che ha scritto il libro Rossini, l'uomo, la musica. Una delle caratteristiche di quest'opera è che il raptus dionisiaco, chiamiamolo così, il furore di ritmo, di suoni e così, si accorda perfettamente con lo scavo dei caratteri. La cenerentola, per la regia di Daniele Abbado, è realizzata dalla Fondazione Pettozzelli in coproduzione con il Teatro Valle di Reggio Emilia e in collaborazione con il Teatro Pierluigi da Palestrina di Cagliari e l'opera Denise.